Cosa prepari oggi? Oggi prepariamo un insalattino di pacacarà con verdure con la salsa di soia. Questa è la salsa di soia. Questi sono antipasti. Sassi di soia. La pinambo. Che sono stati fatti come? Cotti in acqua e latte fatti bolliti. Poi hai aggiunto cosa? Delle mandorle che sono state bucciate, coste, bollite. Il piatto è estremamente leggero. A questo punto cosa si aggiunge? Il baccalà. Il baccalà che viene scottato nell'acqua. A temperatura in centro di 70 gradi, 75 gradi. Non di più. E' un piatto dietetico. Sì. Gustoso, dietetico. E lo teniamo di condire con la salsa verde. La classica verde piemontese. Che non può mancare. Questo piatto è stato preparato da? Riccio Federico. L'istorante dell'albergo dell'Agenzia. Pollenza. Grazie. Grazie.